NEMICO IN DISCESA NEMICO IN DISCESA NEMICO IN DISCESA No, no, no. Sopratti vede per far rischiare i caduti e accumulate punti perché tornino più in fretta. Il tuo alleato è appena rientrato. Il tuo alleato è appena rientrato. Nemico in discesa nell'area operativa. Sopratti vede per far rischiare i caduti. Sopratti vede per far rischiare i caduti. Il tuo alleato è appena rientrato. Nemico in discesa nell'area operativa. Gassi in arrivo. 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 Gassi in arrivo.